ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video e che riccio come state spero bene allora questo è un video preparato dunque che fate di bello io sono qua a registrare e non volevo portare un po della mia routine di pomeriggio perché visto che la mattina lo voglio registrare ma non è stato postato la spesa ma non ho fatto il video sulla spesa perché ero troppo stanca anzi mia nonna si è proposta ma io non ho avuto voglia vabbè niente che dire io sono andata a prendere il telefono che me l'hanno aggiustato speriamo vada tutta incrociamo le dita che non le succeda niente il mio telefono perché adesso sto registrando con galaxy a 13 galaxy samsung a 13 quindi speriamo bene niente tutto lì innanzitutto volevo dirvi che adesso sto ho preso una valiera ovvero un microfono che si vedrà niente con questo microfono sto registrando speriamo che prenda aperto la voce tutto quello che dico è nulla tutto lì non è che l'ho preso l'ho recuperato dalla mia scrivania perché era ingarbugliato siamo tutti gli altri fili che ci sono dietro al computer si l'avevo messo lì e quindi nulla ho appena mangiato ho mangiato come dire un riso un risotto molto buono spesito e niente tutto lì che dire oggi mi ha messo questo vestito non so se avete visto non si vede tanto appena posso vincere la camera aspettate un secondo questo questo è il mio vestito come potete vedere vi prego non fate caso al casino che c'è dietro perché non ho nessunissima intenzione di come dire di sia appunto di rifare il letto solo perché devo fare video non me ne può fregare di meno casomai il prossimo giro lo farò per adesso non c'ho voglia e niente quindi questo è il mio vestito niente senza troppi geni parole e l'ho preso dai cinesi quindi mi piace molto ce lo do un bel po e mi piace tantissimo perché mi piace perché è fresco e comodo ed è bello e comodo mi piace tutto lì da vicino ecco qua vedete questo è il mio vestitino bellissimo adoro torno indietro ecco qua si sono uscita in questo infradito perché da quando l'ho acquistata in farmacia della dottor sholl mi ci trovo parecchio bene quindi top mi piace fenomenale top bene torniamo in sede alla base ci vediamo dopo eccomi qua allora dunque eravate seduti allora siete sopra il mio comodino sto registrando col cavalletto che avete visto poco fa nella clip secondaria del del dell'outfit del vestitino mi avete visto e nulla trucco me l'ho fatto stamattina poi l'ho disfatto per prima di uscire perché era inguardabile e quindi ho detto no sono tutta a mammo di cake di torta è un trucco malfatto quindi ho detto no lo disfaccio cioè lo rimuovo mi strucco e esco solo con le sopracciglia fatte con le redefinite perché così no non sono non mi sentivo il mio agio col trucco tutto che mi stava colando eccetera era tutto a chiazze a cosa no non mi è piaciuto per niente e l'ho voluto rimuovere perché non era il caso di tornare di potere andare a spasso in giro con un trucco che faceva un po non dico schifo ma non era il caso di andare a chiazze in giro tutto lì a parte il segnozzo che mi sta a parte nella continuazione sto bene però c'è una cosa volevo dire io non ho capito perché boh non riesco a portarvi tutti i contenuti che vorrei portarvi boh vabbè niente allora aspettate un secondo che vado un attimo del tovagliolo ed eccomi qua allora ragazze e ragazzi miei dunque non so quanto riuscirò a registrare questo video perché anzitutto come sono messa io non lo so ok non ero messa bene quindi ho detto beh stop un attimo il video e lo riprendo da capo perché era messo tutto cioè non ero messa al centro non ero messa bene quindi non ero messa tra una parte e l'altra del video non so come spiegare insomma spero che mi abbiate capito se no pace non succede niente allora sto seguendo tanti canali youtube che mi stanno piacendo davvero tanto adoro seguire i canali a segui seguo anche il canale di le ricette di anna ciao anna bacio e saluto anche nadia del prete in paio si chiama sì ciao nadia ciao e niente ma che si chiama così si sembra si sembra che si chiama così nadia del prete non mi ricordo non voglio dire stupitate già però credo che si si chiama così la sorella di anna credo anna il quaderno delle ricette credo che si chiama così la sorella mi pare di sì ciao a tutte quante tutte e due e niente quindi questo è cosa trovo a dirvi nulla che appunto oggi mi sono oggi sono sito così poi ho cambiato borsa che la borsa è bellissima quella che è quella che piace anche a voi non è lo zainetto stavolta mi ha portato un'altra cosa un'altra borsa che è un'altra cosa oggi sto proprio a bampera però mi pigliate così se casomai lo riesco a tagliare bene se non lo lascio così allora mi stavo dicendo che cosa vuol dire ah sì che la borsa con la borsa rosa rosa cipria che mi avete visto non so quanti mesi fa l'ho riutilizzata oggi ai manici per portarla o a bracetto oppure a spalla oppure a tracolla ma tracolla è troppo lunga quindi sì si potrebbe allungare ma mi scocce quindi la utilizzo solamente a spalla e va bene così niente tutto lì tanto per dire una io mi allontano sempre di chiudo la telecamera quindi aspettate un secondo e rieccomi allora dunque non so se in questo video metterò la musica metterò qualche musichetta ma casomai se la metto è perché non voglio che vi siano troppi rumori di sottofondo ok sì il microfono c'è no perché sembra che mi possa caduto il microfono invece ce l'ho bello attaccato perché è una valiera il mio microfono vedete quale è questo qua e quindi niente né un altro di scorta perché non siamo anche questo lo posso perdere dimenticare lo dimenticarmelo da qualche parte quindi ne uno di scorta per mia fortuna e niente quindi che dirvi nulla nel frattempo qui ho sacco di casino in camera mio che non so come vabbè poi faccio vedere un attimo solo eh vedete quanto casino che ho non so se vi potete rendere conto basta metterlo in ordine sì vabbè non fate caso a lasciare un frusoglio degli assorbenti chi se ne frega però nel frattempo qua dovrò tutto sistemare da questa parte qua 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 cioè non so se ci siamo capiti ma qui tutto attorno qui devo tutto sistemare non è tanto il disordine ma per una che fa video come me non potrete mai capire che questo disordine ci vivo bene quindi non vedo perché devo cambiare qualcosa di me anzi la crema la metterò in bagno perché ho sul comodino perché qui non sta bene qui sopra io mi trovo bene a lasciarla lì ma quella crema deve stare o qui da questa parte qua dove metto la telecamera per registrare oppure non lo so vabbè vediamo è lì ecco qua questa è tutta la mia postazione dove mi trucco di solito vedete ciao dove mi trucco questo mio zaino vi dicevo bene questo mio zainetto verde oggi non l'ho portato portato appunto vi ripetisco una nuova una borsa che mi è stata arrivata da poco quella rosa lo stesso oggi non l'ho portata quella rosa lì bene stoppo e ci vediamo dall'altro lato e rieccomi qua dunque allora avete visto anche tanto quindi io ora e ora che chiudo perché non so quanto avrò registrato quindi non ne ho idea ops mi sono toccato il microfono dove ho prove e quindi non lo so ragazzi io stavo pensando di fare questo video così tanto per fare una bella chicchierata con voi e per farvi semplicemente così tanto per chicchierare un po' con voi e niente io adesso vi saluto perché se si sta facendo un po troppo troppo non so come dire si non voglio deviare troppo e ci vediamo a un prossimo video aspettate secondo e rieccomi allora che dire grazie di avermi visto il video non so proprio come dirvelo però sono stanca perché c'è caldo però vabbè non so se si vede dalla finestra ma aspettate un attimo non si vederà mai ma questa finestra qua è chiusa perché è chiusa perché non vorrei mai mi spia a essere vicini quindi che si facesse il capo di sui bene ok ragazze ci vediamo al prossimo video ricordate di mettere un bel like e il supporto commentare condividere e se va iscrivetevi ciao a presto un bacio a presto